altre progressioni tipiche generate dall'interscambio modale associate al suono tipicamente americano sono sesto grado a bemolle settimo grado a bemolle primo e terzo grado a bemolle quarto quinto è un interscambio modale con il sesto e il settimo grado del modo eolio ed è ormai divenuto uno standard in tutta la musica hollywoodiana ed è abbinato generalmente a euforia speranza e giustizia inoltre anche questa soluzione può essere sinonimo di sentimento patriottico ascoltiamo quindi il sesto grado a bemolle settimo grado a bemolle primo grado all'interno della colonna sonora di superman del 78 stessa cadenza all'interno della evoke celebration alla fine del ritorno dello jedi la colonna sonora originale però quel del 1983 il brano più rappresentativo del john williams americano rimane comunque american the dream goes on un altro esempio di interscambio modale con triadi ascendenti che si muovono per distanze di tono è il terzo bemolle quarto quinto derivato dall'interscambio sul terzo e quarto grado del modo dorico usciamo per un secondo dal mondo john williams e ascoltiamo questa progressione all'interno di exodus song di ernest gold dal film esodo god gave this land to me this brave and ancient land to me god 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 Grazie a tutti.